E bella stessi ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo su Fortnite con la mia fantastica skin di Kaby Lame Come potete vedere pure con il suo fantastico balletto Oggi vi faccio vedere tutte le mie skin ragazzi Quindi direi di cominciare perché sennò il video dura veramente tanto Allora, qui abbiamo Aspettate che si tolga il coso Abbiamo Monarca, eccola qua Facciamo il giro, guardatela Gli occhi bianchi, così Poi, dobbiamo accelerare Poi abbiamo Ripley VS Slime Che non ho capito cos'è Guardatelo qua, quanto è carino Poi abbiamo la banana ghiacciata Aspettate, se me lo fa... Oh, è già sicrotto Bananita polare Non sapevo che si chiamasse così Guardatela qua La solita bananita però ghiacciata Poi abbiamo... Scusatemi Poi abbiamo Astrojack Non so, ragazzi Ma è uno della serie di Cone E non so neanche chi sia Credo un amico di Travis Scott Poi abbiamo, ragazzi Abbiamo Kaby Lame L'ho appena sbloccato Poi abbiamo Marshmallow Guardatelo qua Abbiamo esattamente Marshmallow Facciamo pure il giro Poi abbiamo Neymar Junior, ragazzi Io ce l'ho da capitolo 2, stagione 6 E lui è Neymar Junior Poi c'è Travis Scott Come potete vedere bene Guardatelo Poi abbiamo Aquaman Guardatelo qua Con i suoi belli muscoli Guardate Aquaman Poi abbiamo Beast Boy Best Boy, vabbè Che poi si trasforma anche, guardate Si trasforma sia così pure Eppure con la giacchetta Poi abbiamo, ragazzi Superman Clark Kent Ma poi si trasforma pure in lui Con il mantello E anche lui, ragazzi Poi c'è Corvina Rinata Che ha due stili Questo, ragazzi E poi questo Poi abbiamo Joker Questo l'adoro Joker, ragazzi In tre stili Come potete vedere Joker è bello Poi abbiamo Poison Eevee Che non la conosco Che però ce l'ho lo stesso Perché avevo preso un pacchetto Poi abbiamo lei Guardatela C'ha due stili pure lei Tutta una da qua E poi abbiamo Doom Slayer Guardatelo qua Madonna Doom Slayer Ford Poi abbiamo Aspettate Scusatemi Poi abbiamo Geralt di Rivia Poi abbiamo Lara Croft Poi abbiamo Deadpool Passiamo la serie Marvel Poi abbiamo, ragazzi Deadpool Capitan America Abbiamo Doctor No Doctor Doom Che lo vedete Dorato Ma in realtà È così Poi abbiamo Doctor Strange Guardatelo qua Poi abbiamo Come si chiama questo Ghost Rider Guardatelo Non mi va il Joystick Abbiamo Ghost Rider Poi abbiamo Groot Cioè Groot Scusatemi Però non riesco a farvelo vedere Groot Poi abbiamo Shulk Jennifer Walters Ma in realtà Vedete che poi Shulk Si trasforma Poi c'è Mystic Che ha il potere Di trasformarsi In tutte le persone Che vuole Poi c'è Prowler Poi c'è C'abbiamo Spider Gwen Ragazzi Poi c'è Spider Man Invece Vicino a Spider Gwen Poi abbiamo Storm Che non la conosco Poi abbiamo Ragazzi Guardate qua Cosa abbiamo Thanos Abbiamo Abbiamo Thanos Poi Ragazzi Aspettate Eccomi ragazzi Abbiamo poi Thor Abbiamo Thor Con tutta la sua Maestà Poi abbiamo Iron Man Che poi ragazzi Adesso lo vedete così Ma poi si trasforma Anche Iron Man Poi abbiamo Wolverine Abbiamo Il Mandaloriano Guardate qua Poi Darth Vader Guardatelo Poi abbiamo Ecco Alla deriva Della stagione 5 Ed è un bel po' vecchia Guardate Alla deriva Poi Abbiamo Eh Aspettate Assassina Della Guglia Poi abbiamo Calamiti Ma come si chiama Come si chiama Questo è Calamiti C'ha un sacco di stili Se mi ricordo Guardate qua Poi fino a coprirsi tutto C'è Tutta nuda E poi qua Tutta a coperta Poi abbiamo Qua Carburo Guardatelo qua Che pure lui È bello vecchiotto Poi abbiamo Catalizzatore Che questa La odora un po' Aspettate un attimo Ragazzi Ragazzi eccoci qua Comunque abbiamo Carburo Che non ve l'ho fatto vedere Prima Guardatelo qua Dalla sua Dalla sua Sua maestosità Che si trasforma Ho fatto la preghiera Da preghiera per averla Che non la uso mai Poi cuore nero Che anche lui C'ha un sacco di stili Comunque Scusate Ma perché questa Non la uso mai È bellissima Poi se me la metto blu Guardate che figata Scusate Perché non la uso Poi abbiamo Questo Fade Che si trasforma così Guardate Fade Poi abbiamo Fondazione Che in realtà Che in realtà È The Rock Vabbè Poi Fusione Che questa Non so Alcuni di voi La conoscono Ma altri no Poi abbiamo Ibrido Questa skin Ragazzi Mi piace un sacco E mi piaceva Poi abbiamo Il visitatore Che è questo Tra l'altro Ragazzi Della stagione 4 Ma no Mamma mia Pure lei Immagine Dei sette Capitolo 2 Capitolo 3 Stagione 2 Poi abbiamo Joy Si Joy Poi abbiamo Chimera Perché l'ho messo Non lo so Vabbè Comunque abbiamo Chimera Che lo potete Cambiare Quando volete Poi abbiamo La temporale Che questa skin Ragazzi A me A me Mi piace un sacco Infatti La equipaggio subito Si Poi abbiamo Links Ragazzi Non so se conoscete questa Ma è bellissima Cacchio Ma io la lascio così Ma che cacchio Aspettate un attimo Perché mi piace un sacco O me la lascio così Ma se me la lascio così Ragazzi Me la lascio proprio così È molto bella E io me la metto Poi abbiamo Ragazzi poi dovrò fare un'altra parte Malik Finiamo il leggendale E poi finisce il video Malik Poi abbiamo Menace Bellissimo Poi abbiamo Mida Poi ragazzi Abbiamo Mizuki Bella Poi abbiamo Nezumi Poi abbiamo Omega Che è della stagione 4 Poi abbiamo Origine Poi abbiamo Paradigma Realtà 659 Poi abbiamo Predator Poi ragazzi Qua c'è Raz Poi c'è Remida Poi c'è Renzo Il distruttore Poi c'è Rex Che questa è la stagione 3 Poi qua c'è Ronin Poi qua c'è Rox Poi qua c'è Sentinella Poi qua c'è Snap Poi qua c'è Specialista Attrezzatura Maya Mamma mia Capitolo 2 Stagione 2 Poi Twin Che si trasforma anche Ragazzi Poi Valore Stagione 4 Poi Venganza Stagione 9 Poi Zenith Stagione 7 Poi Adira Poi Agente Baranita Poi Agente Jonesy Jones E poi Antonia Ragazzi Se volete la prossima parte Sulle mie skin Scrivetemelo nei commenti Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Il primo episodio della skin E ciao